A Torre del Greco sono stati certificati ieri 40 casi di positività al covid-19 di cui uno ripositivizzato, tre in regime ospedaliero e restanti in isolamento domiciliare, 53 invece le nuove guarigioni. Ha testato il passaggio di due soggetti positivi dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Purtroppo è stato comunicato anche il decesso di un cittadino di 92 anni. Sono 33 nuovi casi di contagio da covid-19 a Torre Annunziata a fronte di 221 tamponi effettuati con l'indice di positività che si attesta al 14,93%. Al contempo si registrano anche 43 guarigioni e tre decessi, questi ultimi verificatisi dal 12 al 14 febbraio. Si tratta di un uomo di 72 anni e di due donne rispettivamente di 81 e 87 anni. Sono 102 cittadini di Castellammare di Stabia e risultati positivi al coronavirus il 13 e 14 febbraio 2021. Tra i nuovi contagiati ci sono 4 piccoli tra i 2 e i 4 anni e 17 ragazzi tra i 10 e i 17 anni. Tra i nuovi positivi anche un 92enne e un 90enne. Sono stati lavorati complessivamente 596 tamponi, 11 invece guariti, tra cui due bambini di 6 e 7 anni e tre ragazzi di 12, 13 e 15 anni.